Silvio Varetto sindaco di Alpette siamo qui per una giornata molto speciale dove sono ospiti il collegio dei geometri della provincia di torino di torino della provincia in più i giovani che hanno realizzato questo progetto importante che oggi ospitate e presentate da sindaco ma anche da amministratore locale e da Canavesano che cosa pensi di questo evento? Beh questo evento siamo lieti di ospitarlo è l'evento conclusivo di un percorso che questi studenti hanno fatto sul nostro territorio fin da questo inverno quando sono venuti a studiare la montagna canavesana in particolar modo qui ad Alpette noi abbiamo cercato di dare la massima accoglienza attraverso le nostre strutture per mettere a frutto quello che dovrà essere la montagna del futuro non più in chiave solo turistica come abbiamo fatto in questi anni riqualificando i nostri paesi e infrastrutturandoli in modo adeguato ai tempi che corriamo in modo che l'utente che si reca qui a tutte le funzionalità che può trovare nei grossi centri e in città ma in chiave già di riabitare la montagna per il futuro cioè stiamo pensando un dopo di noi in buona sostanza non possiamo continuare con questo trend di decrescita non possiamo neanche pensare a un turismo mordi e fuggi del weekend o addirittura della giornata del sabato o della domenica noi dobbiamo pensare a riabitare la montagna se il turismo nel canavese negli anni 70 80 era un turismo spontaneo di seconde case di ritorno al proprio paese oggi deve essere un prodotto vero e proprio qualificante ai piedi del gran paradiso e credo che negli ultimi vent'anni mi conoscete come comunità montana sotto braccetto con il parco e poi in questi ultimi dodici anni di governo qui ad alpette credo che abbiamo messo in campo un potenziale tale soprattutto da trarre questo turismo scolastico che il turismo che ti va da metà ottobre a metà maggio e che è un turismo acculturato che fa sentire vivo il paese dal lunedì al venerdì e lo definisco strategico per il polo astronomico e per il polo e comuseale del rame lavoro e resistenza al pietro si dimostra ancora una volta un comune una comunità un territorio che seppur piccolo è sempre in prima linea proprio per cercare di dare sempre più spazio a un territorio canavesano che ha fame ha bisogno di essere conosciuto anche fuori da quelle che sono i patri confini ma sì sicuramente lo abbiamo visto anche quando è nata turismo torino e quindi il discorso della delle dell'interland torinese del secondo interland con rivarolo con cornie con castellamonte abbiamo con ivrea abbiamo cercato di mettere in piedi degli eventi che fossero eccellenza del territorio che fossero tradizione del territorio però nello stesso tempo dobbiamo anche pensare a un turismo che guarda altrove alle nuove generazioni e al nuovo modo di riabitare la montagna oggi alpette a fibra ottica a infrastrutture per il welfare ad alpette si può venire ad abitare perché con oggi anche con i mezzi più veloci con la riqualificazione della linea canavesana elettrificandola fino a ponte speriamo che il 2024 questo avvenga vuol dire poter riabitare la montagna riandare a riqualificare un un parco immobiliare non indifferente considerate che ad alpette ci sono ancora 859 contatori c'è immobili degli anni 70 condomini ville che avendo anche il metano sono possibili viverle tutto l'anno infine con questa giornata ma anche con l'evento che seguirà a livello musicale con il coro polifonico di rivarolo più tardi quanto è importante anche il fatto di uscire da due anni così difficili e realizzare eventi come questo strategico perché se noi pensiamo che ci siamo fermati nel 2019 con mille e quattro pernottamenti e poi il buio totale con i nostri imprenditori che hanno hanno dovuto segnare delle passività ritornare in questi giorni che pare che il covid abbia abbia abbassato la guardia e allora rivedere 150 studenti con tutti i loro docenti le loro famiglie con al seguito il collegio dei geometri che fortemente ha voluto questa giornata finale che si culminerà prima con il con il coro di rivarolo e chi meglio di loro poteva rappresentare il territorio e poi la lezione qui su al polo astronomico con il professor ferreri direi che tanta cosa e tanta roba per il canavese ecco con luisa roccia presidente del collegio dei geometri di torino provincia parliamo del progetto che porta oggi questi giovani ad alpette da dove partito qual è la finalità sì allora ringraziamo il comune di alpette che ha voluto ospitarci questa iniziativa rientra nel laboratorio abitare sostenibile promosso da enti come regione piemonte città metropolitana camera di commercio comune di alpette e collegio dei geometri che ha sempre insomma dato una mano nell'organizzazione ma anche una mano veramente operativa per poi fare in modo che si svolgesse la questa manifestazione si svolgesse nel senso che abbiamo dato veramente tramite dei nostri geometri scritti la disponibilità di strumentazione topografica per fare in modo di rilevare dei borghi piazze e non solo di alpette in modo da poter progettare una riqualificazione di questo territorio abbiamo scoperto un territorio veramente bello assolutamente da progettare e riqualificare che darà possibilità proprio anche forse a una ripopolazione di alpette così come insomma si ci si augura e augurava prima il sindaco quanto è importante coinvolgere i giovani gli studenti del territorio ecco queste iniziative accorciano un po quello che è il mondo del lavoro reale quindi da libero professionista come siamo noi geometri e il le istituzioni piuttosto che la scuola abbiamo fatto dimostrato che il geometra dai libri di scuola e dei banchi in realtà poi operativamente con strumentazione laser scanner stazioni topografiche metri di legno e laser perché ancora insomma siamo tradizionalisti ad ogni modo siamo riusciti a far accorciare questo questo gap tra mondo della scuola e mondo del lavoro assolutamente speriamo che questa esperienza soprattutto per i ragazzi possa dare così un futuro anche a loro per poter fare una libera professione come quella del geometra che assolutamente ha necessità di iscritti nuovi e soprattutto giovani anche per voi come collegio arriviamo da due anni difficili la pandemia ha sicuramente rallentato ritmi progetti iniziative quali sono le prospettive future? ecco allora sì due anni sono stati difficili non abbiamo potuto incontrarci noi di solito come collegio di geometri facciamo orientamento nelle scuole sia in entrata che in uscita proprio perché vogliamo far capire far appassionare i giovani a questo a questo lavoro a questa libera professione il covid ha allontanato un po' questa questa possibilità di andare a parlare direttamente nelle scuole ma con queste iniziative partiamo veramente da qua perché è una prima uscita esterna con le scuole vogliamo assolutamente riniziare il tour tra Torino e provincia e veramente di nuovo far capire che insomma il covid si può abbattere all'interno del laboratorio abitare sostenibile c'è stato anche un progetto proprio per il fatto che il covid ci ha fatto rimanere in casa e c'era necessità di pensare a come riprogettare gli spazi considerando che dovevamo vivere e lavorare in casa e questo è una nuova iniziativa che c'è stata un'iniziativa assolutamente fondamentale visto il periodo. Con Rodolfo Meaglia vicepresidente del collegio parliamo appunto di questa giornata, di questo evento, di questo momento di confronto con i più giovani. Allora in aggiunta a quello che ha detto poco fa il mio presidente Luisa Roccia credo che sia importante sottolineare il fatto che il protocollo abitare sostenibile di cui ha parlato lei poco fa un attimo fa è per quest'anno ospitato dalla rassegna Musica nei Cortili, una rassegna che è iniziata nell'anno 2009 e quindi di fatto quest'anno è la dodicesima edizione che si svolge ininterrottamente salvo i due anni buchi bui purtroppo dovuti dal Covid ed è una rassegna che sin dal suo nascere, sin dai suoi primi vagiti ha voluto mettere in evidenza quello che per noi collegio regionale di Torino provincia era importante proprio nei confronti del mondo scolastico, cioè noi abbiamo iniziato ben prima che le leggi nazionali lo dicessero e lo decidessero quindi nel 2015 abbiamo messo in luogo in campo in piedi l'alternanza scuola lavoro antelitteram proprio perché come stavo dicendo non c'era nemmeno ancora un protocollo nazionale a cui far riferimento proprio perché come volevo e stavo sottolineando per noi è sinergica fondamentale la collaborazione tra il collegio e il mondo della scuola con i suoi studenti proprio per far capire soprattutto in un momento difficile come questo dove purtroppo siamo andati in decrescita per quanto riguarda l'escrizione nei nostri istituti di riferimento CAT che è l'acronimo di costruzione ambiente e territorio per far capire ai nostri giovani che la figura del geometra è ancora importante e lo è trasversalmente quindi siamo e continuiamo ad essere storicamente il tecnico di fiducia delle famiglie ancora prima dei laureati Da Cannabisano anche quanto è importante una giornata del genere il fatto comunque come dicevi giustamente tu il coinvolgere sempre di più i giovani del territorio ma non solo Sì perché è importante renderli consapevoli della ricchezza che abbiamo anche in montagna dove in effetti ci troviamo oggi proprio nell'ottica di andare a recuperare quel patrimonio edilizio che senza probabilmente il nostro impegno non sarebbe possibile fare Questo si sposa naturalmente con la volontà di un sindaco come Silvio Varetto che è molto impegnato nel recupero di questo patrimonio edilizio affinché lo si possa addirittura esportare come modello anche ad altre vallate del nostro meraviglioso Piemonte Infatti parlavi di montagna, montagna che è una caratteristica del canavese con le sue valli col suo territorio ricco e che deve essere assolutamente rilanciato visto anche tutte quelle che sono le iniziative che vengono portate avanti anche dagli enti superiori a livello sia regionale che nazionale Assolutamente, allora se vogliamo evitare che la montagna si spopoli che venga di nuovo riabitata dobbiamo mettere i giovani, prevalentemente i giovani nelle condizioni di ripopolarlo questo territorio ma dobbiamo veramente far sì che tutto quello che deve succedere a livello tecnologico il sindaco parlava della fibra ottica che Alpette è stato uno dei primi comuni ad ospitarla devono chiaramente adeguarsi in questo senso la tecnologia è fondamentale soprattutto per quello che sarà la vivibilità dei luoghi montani dove sappiamo che appunto la tecnologia forse per certi aspetti latita ancora Siamo con Livio Spinelli che è rappresentante del Consiglio Nazionale dei Geometri anche con lei un pensiero su un giudizio, un commento su questa iniziativa di Alpette Grazie, innanzitutto il principale ringraziamento va al Collegio Geometri di Torino e Provincia che si è fatto promotore e che ha invitato il Consiglio Nazionale di cui oggi mi onoro di rappresentante essendo una componente ma sono importanti tutte le argomentazioni che sono state trattate in questa giornata e che saranno trattate perché a partire dalla sostenibilità ambientale la riqualificazione sotto il profilo energetico che sono temi di assoluta attualità e soprattutto rappresenteranno anche per la categoria il futuro sotto l'aspetto prettamente professionale ma ho gradito particolarmente quanto ha più volte sottolineato il Sindaco di Alpette l'importanza anche di riqualificazione finalizzata anche alla ripopolazione dell'ambiente montano quindi abbiamo anche tanti strumenti e tante opportunità dove la categoria dei geometri penso di poter dire che svolgerà sicuramente un ruolo da protagonista quindi ben vengano queste giornate e soprattutto come ho avuto modo di dire questa mattina non potrebbe accadere se i docenti delle scuole che hanno contribuito, invogliato, stimolato i ragazzi che hanno partecipato a questo progetto e questo ci fa vedere sicuramente con una buona dose di positività per il futuro della categoria anche attraverso questi giovani che auguriamo presto siano nostri colleghi Parla appunto, ha parlato di giovani, quanto è fondamentale questo rapporto tra il mondo dei geometri la scuola e i ragazzi che come giustamente diceva lei c'è la speranza che un giorno possono vestire i panni di geometra è più che fondamentale, è strategico perché oltre ad consentire la continuità della nostra professione della capacità, della caratteristica della nostra professione che è quella di presenza capillare sul territorio e anche come siamo in questo caso in ambito montano assume un ruolo fondamentale ma non solo per la professione in generale per quello che è lo sviluppo economico l'importanza che riveste tutta la parte montana quindi noi puntiamo molto, curiamo e come spero condividerà ma spesso avviene con la Presidente Roccia cocoliamo anche un po' questi ragazzi cerchiamo di portarli verso quelle che sono le nostre attività ma caratterizzati da un interesse, da una passione come ho avuto un modo di dire in precedenza che sicuramente è un elemento fondamentale che esula dal non solo svolgimento di un'attività professionale finalizzata a mere scopi economici che è quello per cui poi ovviamente tutte le mattine ci alziamo ma deve essere alimentata da una passione che sicuramente questi eventi possono garantire, promuovere e noi sosteniamo come Consiglio Nazionale ma come categoria in generale affinché questo si possa sempre proseguire nel tempo e grazie anche poi al supporto di personaggi politici siccome abbiamo avuto oggi l'energicità e la voglia la passione che ci mette il Sindaco di Alpette sono tutti elementi che coniugati insieme possono darci sicuramente una visione molto ottimistica di quello che è il futuro della categoria ma della società in generale Chi l'ha preceduta ha parlato naturalmente di aspetti legati più al territorio locale del Piemonte e di Torino con lei invece vorremmo fare una panoramica diciamo così un po' più generale a livello nazionale Certo, a livello nazionale sicuramente poi il territorio nazionale è variegato e quindi ognuno ha le sue peculiarità però anche attraverso altre istituzioni promuoviamo anche questi tipi di attività perché è fondamentale sia la crescita dei giovani ma l'attenzione al territorio e mi piace ripeterlo la capillarità della categoria a differenza di altre senza voler fare alcuna discriminazione veste un aspetto non secondario perché comunque consente al geometra di essere protagonista su tutto lo svolgimento di una serie di attività che alla popolazione in generale porta dei benefici e quindi alla nazione intera possiamo dare il nostro contributo attraverso il nostro operato e la fiducia chiaramente nella crescita dei giovani Nicola Scarlatelli, vicepresidente della Camera di Commercio di Torino una giornata importante ad Alpette un suo commento Ma una giornata importante, bella sotto certi aspetti straordinaria perché poi è frutto di un percorso un lungo percorso grazie a una rete che coinvolge tantissimi attori le scuole innanzitutto l'ordine dei geometri, degli architetti la regione Piemonte, la città di Torino la Camera di Commercio che da sempre, da oltre dieci anni contribuisce a questo sviluppo della pratica con la formazione uno dei ruoli fondamentali di Camera di Commercio nelle sue missioni è quella di sviluppare e promuovere la formazione delle nuove figure che interverranno nel mondo del lavoro nell'ambito appunto dell'industria dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura la data di oggi è significativa perché per la prima volta si comincia a pensare a come i giovani possono pensare al futuro di un territorio qui parliamo di un mondo di giovani che sta facendo un percorso scolastico legato alle costruzioni legate all'agricoltura perché c'è il coinvolgimento degli istituti per geometri che adesso hanno un altro nome e degli istituti agrari quindi un esercizio più che bello perché è vero che pensiamo ai giovani su cosa faranno ma loro si esercitano a cosa fare e per chi verrà anche dopo qua stanno cambiando molto le situazioni gli stili, i modi di vita probabilmente i borghi montani probabilmente la periferia avrà un ruolo determinante e fondamentale nella vita delle persone su un nuovo modo di vivere tra l'altro è importantissimo coinvolgere le nuove generazioni soprattutto dopo quello che è successo negli ultimi due anni dove purtroppo il mondo è cambiato e sta cambiando sì, il mondo è cambiato sta cambiando molti cambiamenti non abbiamo neanche avuto consapevolezza certo coinvolgere i giovani vuol dire dare un senso alla vita che noi abbiamo vissuto alle occasioni che abbiamo avuto poterle restituire alle gioie che abbiamo vissuto dargli fiducia che quel mondo non è forse come alcuni con un atteggiamento terroristico quando dicono voi giovani non avete futuro ai nostri tempi area diversa non devono credergli è una falsità loro hanno una vita davanti in genere chi dice che ai giovani che non hanno futuro sono dei vecchi che non hanno futuro nella loro vita quindi il futuro ce l'hanno devono partecipare devono condividere dobbiamo lavorare insieme chi ha fatto un pezzo di storia del nostro paese e chi dovrà portarlo avanti quindi assolutamente non può prescindere la nostra vita senza considerare la vita dei ragazzi adesso Maria Vittoria Bossolasco preside dell'Erosmo da Rotterdam di Nichelino una giornata in cui i giovani sono stati protagonisti e sono protagonisti ad Alpette un suo commento bene una giornata molto interessante in cui gli studenti a conclusione del primo anno del progetto Borghi sono qua studenti di vari istituti sono sette istituti di Torino e provincia e quindi abbiamo l'istituto Buniva di Pinerolo che è un istituto che ha l'indirizzo Costruzione Ambiente e Territorio sono quasi tutti istituti CAT l'unico istituto tecnico agrario è l'istituto dei Salesiani di Lombriasco poi abbiamo l'Erasmo da Rotterdam di Nichelino il Galilei di Evigliano il Galilei Fermi di Cirie abbiamo l'istituto Guarini e il Chiori Vittorini di Grugliasco sono sette dei dieci istituti che fanno parte della rete Abitare Sostenibile che è una rete che è nata ormai dieci anni fa accomunata dalla volontà da parte dei docenti di ripensare alla formazione di costruire diciamo competenze aggiornate che vanno ben al di là dei programmi ministeriali per dare una formazione spendibile rispetto al mercato del lavoro odierno quindi il progetto appunto parte da lontano il protocollo Abitare Sostenibile vede al suo interno la rete di scuole ma vede anche partner qualificati sotto l'aspetto professionale che hanno anche contribuito economicamente che sono in primis la Camera di Commercio Regione Piemonte l'Ufficio Scolastico Regionale ma anche il Collegio Geometro il Politecnico quindi partner assolutamente prestigiosi perché i nostri studenti possano fare esperienze di alternanza scuola lavoro da qualche anno PCTO percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento direi di assoluta qualità con insegnanti che sono molto motivati che si confrontano tra di loro molti di loro sono professionisti e quindi come dico sempre io non sono gelosi delle loro competenze acquisite e spese nell'ambito professionale ma le riversano con molta generosità con i loro studenti quindi questo è certamente un punto di forza per la crescita di questi studenti e della loro preparazione sempre più attuale rispetto all'esigenza del mercato del lavoro bellissima Alpette grazie al sindaco all'amministrazione comunale per questa bella giornata per l'ospitalità ma anche per aver reso possibile nel corso di quest'anno tutte le attività sul territorio di rilievo ecco senza questo noi oggi non saremmo qui quindi grazie veramente anche all'amministrazione comunale i genitori che sono con noi perché noi abbiamo studenti ma abbiamo anche genitori che hanno avuto il piacere di condividere con noi questa giornata la presentazione dei lavori da parte dei loro figli o comunque dei compagni dei loro figli di queste scuole quanto è importante appunto la collaborazione tra scuola e territorio beh direi che è importantissimo allora non sono più i tempi della scuola autoreferenziale chiusa in se stesso io credo che mettere a confronto le diverse professionalità sia un punto di forza quindi la scuola certamente deve avere come dire una linea di indirizzo avere chiarezza rispetto a quello che vuole ottenere ma deve avere anche come dire l'umiltà che poi è un punto di forza e non di debolezza di aprirsi all'estrascuola dove si trovano comunque professionalità e direi anche risorse economiche perché spesso le scuole con le risorse economiche a disposizione non possono andare molto lontano quindi direi ancora grazie perché se noi siamo qui oggi abbiamo fatto questo progetto quest'anno e presumibilmente lo continueremo il prossimo anno perché abbiamo avuto un contributo sia da Camera di Commercio che da Regione Piemonte che hanno creduto nel progetto e l'hanno dimostrato concretamente anche con il sostegno economico quindi grazie all'estrascuola Maria Grazia Laino direttore artistico musicale del Coro Polifonico di Rivarolo ospiti ad Alpette in questa giornata molto speciale ci vuoi raccontare quale sarà il vostro ruolo? Sì allora siamo molto felici di essere qui come le edizioni passate questa è la dodicesima edizione alla quale partecipiamo con il Collegio dei Geometri per dare il nostro apporto ovviamente musicale alla serata il nostro concerto oggi diciamo che avrà un tema particolare l'abbiamo intitolato canti di sogni e di stelle proprio perché ogni brano avrà proprio una connotazione in questo senso quindi avremo brani che parleranno appunto visto che c'è anche l'osservatorio che avranno a che fare con gli astri con la luna con dei sogni con delle utopie insomma per tutti i gusti saranno brani tratti da celeberrime opere opere liriche come Carmen ci saranno brani che parleranno di natura e di autori diciamo tra i più svariati addirittura faremo anche qualcosa insomma di leggero ma non dal punto di vista del testo ma perché canteremo Imagine di John Lennon per cui un grande messaggio anche di pace visto il periodo che stiamo vivendo e quindi avrà una connotazione anche in questo senso il concerto un evento che si inserisce tra l'altro in un anno molto speciale per il coro polifonico perché è il cinquantenario tanti gli eventi ci vuoi parlare di questo anno così speciale? Sì ecco noi siamo partiti il primo maggio con il primo grande evento musicale abbiamo eseguito la messa di Schubert in sol maggiore nel santuario della Madonna di Ozzegna con un'orchestra con un'orchestra d'archi con dei solisti e con il coro insomma è stata una bellissima serata che ha avuto anche particolare successo perché insomma di pubblico e anche insomma di sì di critica Gianfranco Ponchia presidente del coro polifonico di Rivarolo presente alla giornata speciale di Alpette tra l'altro in un anno molto particolare quello di 50 anni della vostra associazione ci vuoi parlare di questo traguardo così importante? In effetti il coro nato nel 1972 quest'anno festeggia il cinquantennale della sua fondazione e abbiamo preventivato di fare tutta una serie di attività per coinvolgere maggiormente i coristi tra l'altro devo dire che forse grazie alla pandemia se così si può dire abbiamo avuto anche un notevole aumento nei coristi nelle varie voci perché probabilmente c'è anche più la voglia di esprimersi di partecipare alle attività del coro e quindi ci troviamo in condizioni migliori rispetto alla situazione antediscorso della pandemia abbiamo diversi appuntamenti in vista il primo dei quali potrebbe essere sarà anzi l'alborada che faremo al Colle del Nivolè per tanto per rievocare gli inizi che sono stati proprio ai 2650 metri del Colle del Nivolè quindi sarà un'emozione rivedere rifare questo passaggio qua